Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come rimuovere così gli aggiornamenti su OBS Studio Ovviamente c'è chi ha avuto problemi riguardo a che si aggiornava da solo OBS Studio Quindi gli ha fatto anche perdere vari progetti e altre cose che aveva su OBS Quindi non ha potuto caricarli per colpa della nuova versione Quindi in questo caso se ti piace una versione di OBS Studio Quindi la stai usando per un mese o due Quindi per esempio prendiamo la versione OBS 26.2.1 Una vecchia versione buona E adesso è la versione 30.1.2 Quindi in questo caso per rimuovere gli aggiornamenti su OBS Studio Puoi direttamente andare su Esegui Clicca qua sopra Esegui Entra nella cartella %updata% e fai ok Una volta fatto scendiamo fino a giù In appdata poi vai in roaming Scendi fino a giù fino a trovare OBS Studio Ed ecco update Cliccando updater Ovviamente devi chiudere OBS Studio Updater.exe Se vuoi aggiornare OBS e la nuova versione ci clicchi questo Se non lo vuoi Cancella direttamente la cartella update Basta Rimuovi così quella cartella Così facendo non ti uscirà più quella notifica Aggiorna OBS Studio Oppure si aggiorna da solo E così facendo Per ripristinare tutto Non ti resta che riscaricare di nuovo OBS Studio Quindi poi si aggiorna assieme all'applicazione che avevi già sul computer Quindi senza perdere nulla E svuoti pure il cestino Basta Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao Ciao Ciao